Signore e signori, prima di cominciare la mia radiotrasmissione, ho qualcosa da dire. In questi tempi di stupida oscurità, di uomini che invadono paesi, ho pensato che potrei ricordare la luce dura in eterno. Mentre l'oscurità non arriva a durare neanche un secondo. Quando accendete la luce, so che per quello che faccio rischio di essere uccisa, ma non resterò in silenzio. Anche per questa sera è tutto. Spero vi sintonizziate anche domani. Quando ero piccolo, ho sempre avuto una smisurata passione per le radio. Le cose che ho visto mi danno la caccia. la sua voce era la mia evasione. Le metterò in mano di nuovo la pistola e lei stessa ucciderà questa ragazza. i tedeschi sono vicini. Tutte le persone nel mondo sono diventate malvaci. non tutte le persone. Ciò che ci serve è che tu non attiri di nuovo l'attenzione su questa casa. Maria non è al sicuro. Se troverò tua figlia, troverò quella pietra. Se non riuscirai, sarai il primo a morire. Ormai hai capito? Stai inviando importanti messaggi che ci aiuteranno a vincere la guerra. I tedeschi sono i nostri nemici. Non consegneremo la nazione a quei mostri. Qualcuno della nostra generazione che pensa che questa guerra potrebbe giungere ad una fine? non so quanto tempo avrò ancora ma fino ad allora io resterò qui dove tutto è iniziato. E' l'ora della resa dei conti. So che sei lì sopra. Non hai via di scampo. La luce più importante è tutta la luce che non vediamo. La luce più importante è tutta la luce. Qui si chiudette il corpo? Allora che vediamo! Avevi Jewettro,